Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli di questa edizione del telegiornale Al via nelle Marche le prenotazioni del vaccino per gli anziani con più di 80 anni Per la zona di Pesaro la sede scelta è il centro monale Bambini e ragazzi alle prese con aggressività, ansia e disturbi fisici Sono gli effetti delle restrizioni da pandemia Ne abbiamo parlato con la presidente dell'ordine degli psicologi delle Marche, Katia Marilu Continua l'odissea dei migranti e profughi in Bosnia Che tentano l'ingresso nei confini dell'Unione Europea attraverso la Croazia Sono costretti al freddo e al gelo dell'inverno Da Pesaro partirà un convoglio con gli aiuti umanitari Tra poche ore l'arrivo del grande freddo dalla Russia Che porterà anche nelle Marche gelo e neve a bassa cuore Issata sul pennone del comune di Fano la bandiera del carnevale Da oggi parte ufficialmente la settimana grassa Che quest'anno sarà solo virtuale In esclusiva su Fano TV questa sera alle ore 21 La serata inaugurata Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 di Fano TV Come avete sentito poco fa dal nostro sommario Da domani parte nella regione Marche La prenotazione dei vaccini per gli anziani Che hanno compiuto più di 80 anni Dopo un sopralluogo questa mattina a Pesaro Si è scelto di adibire la sede del centro Monaldi Alla somministrazione delle dosi Che partirà dal 20 di febbraio Simona Zonghetti A Pesaro i vaccini per over 80 Si faranno al centro sociale 900 Pino Monaldi Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Matteo Ricci Il quale ha precisato che gli anziani dei comuni di Pesaro Gradara, Gabicce, Tavuglia, Monte Labbate, Vallefoglie e Monbaroccio Si dovranno recare al centro sociale della Celletta Questo posto è stato scelto oggi Dopo il sopralluogo degli assessori all'operatività Enzo Belloni Alla coesione Mila della Dora Insieme ai dirigenti dell'Asur Spero davvero, aggiunge il primo cittadino Che ci sia un'adesione di massa Perché vaccinarsi è un dovere etico, morale e civile Nei confronti di tutti Ci si potrà prenotare a partire da domani Venerdì 12 febbraio alle ore 14 Sia sul sito del governo Sia telefonando al numero verde 800 00 9966 Nell'operazione che nelle Marche sarà dal 20 febbraio al 12 marzo Saranno impegnati medici e infermieri dell'Asur E la protezione civile Nei prossimi giorni poi verranno valutate Eventuali modifiche alla viabilità della zona Durante le giornate di vaccinazione E sono sette i decessi legati al coronavirus Registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore Tra le vittime c'è anche un 73enne residente a Cagli I nuovi positivi sono 530 Quasi la metà in provincia di Ancona E 118 in quella di Pesero Urbino I ricoverati per Covid sono 604 Due in meno rispetto a ieri In terapia intensiva i pazienti sono 75 Mentre quelli in semi-intensiva sono 158 E parliamo invece adesso degli strascichi della pandemia Che provoca aggressività, ansia, disturbi fisici nei bambini e negli adolescenti Oggi Simona Zonghetti ne ha parlato con la Presidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche Katia Marilunco Aggressività e problemi psicosomatici sono i disturbi più diffusi Tra i giovani in questo periodo segnato dal coronavirus Infatti con il lockdown e le fasi successive legate alla pandemia La famiglia ha rivestito tre ruoli È stata al tempo stesso il luogo di lavoro, di studio ma anche di isolamento E le conseguenze che oggi si registrano, dati alla mano, sono allarmanti Durante la prima ondata, quella del lockdown da marzo a giugno del 2020 Il periodo in cui appunto c'è stata una chiusura totale di tutta la popolazione Quindi anche per i ragazzi, bambini, adolescenti Uno stop completo di quella che era la didattica in presenza Si sono visti l'aumento di tutta una serie di sintomatologie Da uno studio condotto su 2000 pediatri Il 98% dei pediatri ha notato una sintomatologia presente nei bambini E nell'80% dei pediatri hanno trovato una sintomatologia invece in adolescenti e preadolescenti Nello specifico nei bambini sono emerse tutta una serie di comportamenti diciamo problematici Bambini molto più impauriti, appiccicosi, bisogno di co-sleeping Quindi risvegli notturni, disturbo del sonno, ricerca di attenzioni, urla, scoppi di rabbia, aggressività Negli adolescenti e per adolescenti allo stesso modo ci sono stati comportamenti magari più violenti Più aggressivi ma anche al tempo stesso tutta una serie di somatizzazioni Quindi mal di testa e mal di pancia psicosomatici Così come anche una diminuzione della motivazione allo studio Anche in studenti ed alunni che erano comunque motivati anche bravi a scuola Questo nella prima ondata Nella seconda ondata per i bambini il ritorno a scuola sicuramente è stato un motivo di motivazione maggiore allo studio Mentre purtroppo negli adolescenti quindi delle scuole superiori la didattica a distanza non ha aiutato Nel migliorare questa sintomatologia e spesso quindi ci sono stati comportamenti proprio di perdita di motivazione Crisi di pianto, anche a volte sintomi ansiosi Tutta una serie di problematiche che si sono poi slatentizzate dal fatto che nella prima ondata già si era stati abbastanza provati Per contrastare il disagio anche nelle marchi è arrivato il sostegno psicologico nelle scuole L'ordine preseduto da Katia Marilungo ha lavorato in sinergia con l'ufficio scolastico regionale Per inserire un professionista all'interno di ogni plesso di ogni ordine grado Un intervento fondamentale per supportare bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie nella ripresa dell'attività Sono stati stanziati dei fondi per tutti gli istituti scolastici nazionali e quindi sono stati erogati dei fondi e fatti dei bandi Affinché ogni istituto scolastico avesse al suo interno uno psicologo In tutta Italia quindi anche la nostra regione ha risposto molto a questa erogazione di fondi Qual è il consiglio che l'ordine si sente di dare in particolare alle famiglie che stanno fronteggiando questi problemi in casa? Come ordine psicologi noi sicuramente sappiamo che tantissimi colleghi altamente formati e specializzati Sono al lavoro all'interno degli istituti Quindi il consiglio che do è quello di chiedere aiuto agli psicologi che sono già al lavoro all'interno degli istituti scolastici Anche solo in maniera preventiva È terminata ieri la raccolta di indumenti e di beni di prima necessità Destinati ad aiutare i migranti che sono bloccati in un campo che è stato distrutto dalle fiamme in Bosnia Tutte persone che stanno cercando di attraversare il confine Quindi di passare la Croazia per andare nei paesi dell'Unione Europea Angelica Panzieri Stiamo cercando di selezionare e farci arrivare solo possibilmente alimenti medicinali e igiene personale Perché in quanto riguarda gli indumenti ce ne abbiamo avuti tanti, 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 tanti Quindi cerchiamo di selezionare Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati per aiutare questi bosniaci Quantità innumerevoli di cibo, medicinali e indumenti Tra cui cappelli, guanti, sciarpe Da inviare in Bosnia i migranti bloccati alle frontiere nel pieno gelo dell'inverno La solidarietà di CGL, Peser Urbino, Hauser, Sardine Marquez e Human È entrata in corsia per rispondere alla crisi di numerosi profughi Bloccati al freddo e in condizioni disumane dal 23 dicembre scorso Nel campo di Lipa, distrutto da un incendio Nel giro di una settimana sono state raccolte centinaia di alimenti Prodotti per l'igiene, coperte, medicine Nella sede della CGL di Pesero, in quella di Urbino E ancora nella sede di Hauser di Fano I cittadini hanno risposto con grande generosità E ieri, mercoledì 10 febbraio, nell'ultimo giorno dedicato alla raccolta Durata una settimana, sono arrivati gli ultimi carichi I quali saranno ora affidati alla Croce Rossa internazionale Che si occuperà di far recapitare i beni bisognosi C'è stata una risposta inimmaginabile Tant'è che abbiamo dovuto stoppare la raccolta del vestiario E ci siamo concentrati prevalentemente poi sulla raccolta delle derrate alimentari E dei medicinali E quindi siamo contentissimi di dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno Ecco in questo caso ai migranti bosniaci affinché questa situazione qualcuno decide di porvi rimedio Oggi più che mai c'è bisogno di star vicino a chi ha necessità E con questo CGL che si è fatto a capofile insieme allo SPI di questa cosa Con le 6.000 sardine e noi dell'Hauser che facciamo un po' il braccio operativo Accogliamo con piacere questa vicinanza e questo aiuto che si può dare agli ultimi Quelli più deboli E adesso parliamo del maltempo perché questo fine settimana come annunciato abbondantemente Sarà caratterizzato da vento freddo, temperature rigide e neve soprattutto fino a bassa quota E allora per saperne di più ci colleghiamo con la protezione civile delle Marche E dove abbiamo il meteorologo Marco Lazzeri Allora buonasera Lazzeri, quali sono le ultime novità? Quest'aria russo-siberiana porterà davvero questo abbassamento brusco delle temperature e la neve? Buonasera a tutti, innanzitutto sì porterà questo abbassamento delle temperature e anche la neve a bassa quota Però nella giornata di domani questa aria fredda di origine polare continentale sarà preceduta da una debole perturbazione di origine atlantica Che nel pomeriggio porterà le prime precipitazioni che saranno dapprima nelle zone interne Poi anche lungo la fascia collinare costiera e saranno però nevose al di sopra inizialmente dei 500 metri Poi in serata il limite si abbasserà a quote collinari Non dovrebbe ancora nevicare lungo la costa per la giornata di domani Invece la neve anche a bassa quota a quote di pianura è attesa per la giornata di sabato Dalle prime ore della giornata di sabato e soprattutto nella prima mattinata Ci saranno delle precipitazioni quindi che saranno anche a carattere nevoso fin lungo la costa Con accumuli di qualche centimetro anche nelle località di pianura Già nelle zone collinare invece avremo qualche decina di centimetri Tra 20 e 30 centimetri in montagna potremo arrivare fino al mezzo metro La situazione andrà avanti fino a metà della giornata di sabato Poi partirà un miglioramento delle condizioni meteo con dei fenomeni residui Che saranno però deboli e probabilmente confinati alle zone interne Giornata di domenica con cielo maggiormente sereno Ancora qualche struttura nuvolosa in ingresso dal mare Da ricordare ci sarà anche il vento che espirerà dai quadranti orientali E sarà particolarmente intenso lungo la fascia costiera Sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica E quindi anche il pericolo di mareggiate Bene, molto chiaro Allora per tutti gli altri aggiornamenti siamo rimasti d'accordo Insomma con la redazione che ci collegheremo anche domani mattina alle 7 Con un nuovo aggiornamento Stessa cosa domani sera Insomma seguiremo passo passo l'evolversi del maltempo Va bene, intanto grazie Buon lavoro a Marco Lazzeri della Protezione Civile delle Marche Adesso invece parliamo di manutenzione straordinaria del palazzetto sportivo Cercolani di Lucrezia nel comune di Cartoceto perché a fine mese partiranno i lavori Letizia Marchioni Al via per la fine del mese i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del tetto del palazzetto dello sport Alfeo Cercolani Quartier generale della società pallavolistica APAV Calcinelli Lucrezia Negli ultimi tempi la struttura sportiva di Lucrezia infatti era stata interessata da persistenti infiltrazioni d'acqua Che rendevano inutilizzabile la struttura nelle giornate di pioggia Rischiando di danneggiare il parquet del campo da gioco Si tratta di un intervento del valore di 100.000 euro Ha spiegato il primo cittadino di Cartoceto Enrico Rossi Che consisterà nella sostituzione della guaina impermeabilizzante Nella riparazione della copertura E nell'installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio ormai previsti per legge Un intervento che tiene anche conto della futura e prossima possibilità Di produzione di energia rinnovabile necessaria al funzionamento dell'impianto Attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici Un intervento devo dire molto molto atteso da tutti i ragazzi e dalla società sportiva Che frequentano questo impianto abitualmente Una società sportiva che ricordiamo essere un esempio sul panorama sportivo nazionale Dal momento che vinita nel campionato di serie B2 E l'altra cosa da aggiungere è che grazie anche alla concertazione Che c'è stata tra la direzione dei lavori e la società e l'amministrazione comunale Riusciremo anche a realizzare questo tipo di intervento Senza stoppare l'attività sportiva di APA Allora torniamo adesso invece a parlare della complanare Fano-Pesaro Cioè la strada complanare Fano-Pesaro Perché oggi Bene Comune replica le dichiarazioni che ieri ha rilasciato al nostro telegiornale Cristian Fanesi, il vice sindaco per Bene Comune Infatti la giunta seri avrebbe avuto la possibilità di ottenere gratis la complanare E invece avendo fatto passare tutti questi anni senza far nulla Rischiato di perdere un'occasione storica per alleggerire il traffico cittadino Sentiamo la dichiarazione che ci ha rilasciato Luciano Benigni Non so se dirmi più sorpreso o più onorato del fatto che il vice sindaco Fanese abbia voluto porre le sue attenzioni su di me su questioni di tanti anni fa Peccato che l'abbia fatto con affermazioni attribuendomi appunto ruoli e affermazioni completamente inventate prive di qualunque rispondenza con la realtà Mi ha attribuito il fatto di essere stato il rappresentante dei 5 Stelle in Consiglio Comunale Non lo sono mai stato, se mai lo sono stato di Bene Comune, mai di 5 Stelle Poi ha detto che avrei votato a favore su due delibere Una del 2010 e una del 2014 Con le quali secondo lui, ma non è vero Sarebbe stato annullato l'impegno di Società Autostrade Di realizzare a sue spese sia la progettazione che la costruzione della complanare Anche questo è completamente inventato Basta andare a vedere le due delibere Nella prima Carlo De Marchi ed io siamo addirittura usciti al momento del voto Nella seconda non ho votato affatto a favore né io né Ada Romicioli come 5 Stelle Perché ci siamo astenuti Poi l'assessore vice sindaco Fanesi mi ha attribuito la contrarietà alla complanare Forse lui non ricorda che la posizione di Bene Comune è sempre stata così come quella Dei Verdi all'inizio degli anni 90 A favore dei due caselli Fano Nord e Pesaro Sud E della liberalizzazione di quel tratto Questa per noi era la soluzione ideale Se questa soluzione non si poteva realizzare Allora si potevano trovare soluzioni alternative In questo senso la complanare di allora che era devastante che andava a distruggere un paesaggio Veramente importante era assolutamente nella contrarietà delle nostre posizioni Viceversa la complanare proposta oggi dai 5 Stelle è tutt'altra cosa È una complanare molto più leggera che utilizza strade già esistenti Strada di cantiere e che quindi pur restando la principale proposta Quella di liberalizzare il tratto fra Fano Nord e Pesaro Sud Potrebbe essere comunque una soluzione alternativa Quindi credo che di fronte a tutto questo l'assessore Fanesi e tutta la Giunta Farebbe bene a spiegare ai cittadini di Fano Per quale motivo in tutti questi anni non hanno proposto, chiesto, forzato La società autostrade a realizzare questa complanare Che era ed è secondo noi all'interno dei piani previsti per la terza corsia dell'autostrada Se così non fosse, se ci fosse una delibera che non conosciamo che dice il contrario La tirino fuori ma chiedono scusa ai 5 Stelle che i cittadini di Fano restano in attesa di avere chiarimenti su questa vicenda Inaugurata ufficialmente questo pomeriggio la settimana grassa Oggi è stata issata sulle note della musica arabita La bandiera ufficiale di Fano, città del Carnevale Davanti alla residenza municipale, alla presenza dell'ente carnevalesca e del sindaco di Fano Massimo Seri La storica banda ha poi sfilato per la città dando così il via al giovedì grasso E a proposito della settimana grassa vi ricordo che tra poco dopo il nostro telegiornale in esclusiva su Fano TV Trasmetteremo proprio l'evento, il primo di una serie di eventi dedicati al Carnevale E come ormai tradizione il maestro pasticcere Stefano Ceresani ha presentato il dolce del Carnevale La torta divina dedicata a Dante Alighieri L'ha assaggiata per noi Filippo Pucci Quando si parla di dolci Stefano Ceresani risponde E' stato presentato anche per questa edizione un po' particolare dovuta al Covid il dolce di Carnevale Appuntamento ormai fisso, il pasticcere ha realizzato la torta divina Nome per richiamare appunto il tema della manifestazione di quest'anno, ovvero Dante Alighieri Come tutti gli anni anche quest'anno abbiamo fatto appunto la torta del Carnevale di Fano Ma siccome quest'anno la carnevalesca purtroppo per varie ragioni che sappiamo non ha potuto fare il pupo Allora abbiamo dovuto inventarci un qualcos'altro per fare la torta E' la torta appunto dedicata a Dante Dante che sono i 700 anni che ci ha lasciato E speriamo che sia una cosina buona gradita ai fanesi La torta è stata realizzata rigorosamente di cioccolato con il 67% di cacao Quindi dal gusto un po' amaro All'interno una ganache di cioccolato bianco arricchita da wafer tritati Che donano una speciale croccantezza al dolce Il tutto ricoperto da uno strato di cacao puro Alla presentazione la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli Giorgio Gragnola della fondazione Carifano Coff Commercio Fano con Barbara Marcolini E l'assessore Etie Lucarelli Tutti gli anni ci fa assaggiare le sue bontà Ma devo dire che quest'anno fa una cosa in più Ci manda veramente un bel messaggio di speranza Perché anche in un momento così delicato In un qualche modo addolcisce anche gli occhi Con queste prelibatezze che ha realizzato E io tramite lui, tramite questo bel messaggio Voglio anche ringraziare tutti i commercianti Tutto il mondo economico Che in questo periodo stanno cercando di sistemare le vetrine Stanno cercando di fare attività Perché alla città arriva veramente un bel messaggio Facciamolo tutti insieme e lavoriamo uniti E questo periodo sarà sicuramente più lieve E adesso apriamo l'album di Fano TV Abbiamo diversi festeggiamenti da fare Abbiamo gli auguri a Orlando Innocenti e Franca Principi Di Fior di Piano di Colli e il Metauro Che oggi festeggiano le nozze di Diamante 60 anni di matrimonio insieme Poi complimenti Facciamo i complimenti ad Alessia Goffi Che ha conseguito la laurea magistrale in lingue straniere Studi interculturali con 110 all'Università di Urbino E a Mondolfo invece il sindaco Barbieri Questa mattina ha fatto visita alla signora Elena Fossi Che oggi compie 100 anni In questa foto la vedete insieme appunto Al primo cittadino con un mazzo di fiori Restate qui sul canale 17 di Fano TV Perché tra poco dopo la pubblicità Le previsioni del tempo Come abbiamo già detto La prima puntata Il primo appuntamento Con la settimana grassa del carnevale di Fano Cui seguirà un documentario Firmato da Paolo e Alberto Delbianco Noi invece ci vedremo domani mattina Alle 7 in diretta con Occhio ai giornali E la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti